Grazie a tutti. Questa giovane artista nasce come cantante, fin da piccola coltiva questa passione ed è laureata al Dams di Bologna in discipline teatrali, ma è proprio ad Alghero che vive e studia ormai da 5 anni la disciplina del musical presso il centro studi ICNU. Un'occasione importante è questa che le si è presentata per la sua carriera in quanto le permetterà di potersi esibire in diversi palcoscenici italiani. Domenica al Teatro Carani di Sassuolo il suo debutto sarà Alice nel Paese delle Meraviglie, dunque la protagonista di questo musical con la regia di Christian Ginepro e le musiche di Giovanni Maria Lori. Ed ora sentiamo proprio Stefania Ambrogi raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione per un'intervista. Stefania Ambrogi, cantante e attrice algherese di adozione, ma algherese comunque perché sei arrivata in città quando eri molto piccola. Un'occasione importante per te, debuti da protagonista nel musical Alice nel Paese delle Meraviglie a Sassuolo. Sì, ho avuto questa immensa fortuna di debuttare come professionista proprio in un ruolo così bello come quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Sdebutto sia a Sassuolo con questo musical, la regia di Christian Ginepro, musiche di Giovanni Maria Lori. E' veramente molto bello perché è una favola che però conserva in sé anche una morale molto bella che è quella del conservare in sé stessi quella parte di bambino che abbiamo in noi e che sempre dovrebbe restare, dovrebbe venire fuori in alcuni momenti e renderci migliori. Reciterai anche insieme ad altri sassaresi, credo. Tu sei algherese, in un cast di 40 persone ci sono tre sardi. Esatto, la cosa bellissima è quella perché siamo tre sardi in tutto il cast, tra l'altro tre sardi i protagonisti perché gli altri sardi sono Marco Bazzoni, conosciuto come Bazz di Colorado, che interpreta il cappellaio Matto e poi abbiamo un'alice piccola perché le alici sono due in scena, la piccolina e la grande. Una delle alici piccole che abbiamo è di Sassari, si chiama Elena Idini, è molto molto brava, l'avete vista anche a Sassari, al Verdi domenica ha fatto la replica. Tu prendi il posto comunque di un'attrice di esperienza che ha chiuso la sua tournée proprio a Sassari, al Verdi la scorsa settimana. Esatto, sostituirò Tania Tuccinardi, che è stata l'alice fino adesso e poi per altre motivazioni deve lasciare. Insomma è una grande responsabilità perché Tania è sicuramente molto molto brava, quindi mi mette in gioco e mi dà carica anche questo fatto qua. E infine ti chiedo ovviamente come l'hanno presa i tuoi familiari, i tuoi amici saranno soddisfatti qui ad Alghero o si fa il tifo per te? Sì, allora sono veramente meravigliosi, io devo ringraziare veramente tutti perché mi sono tutti vicini, sono loro le mie meraviglie, tutti gli amici, tutti i miei parenti, tutti gli algheresi che veramente mi stanno accogliendo, mi stanno sostenendo con un affetto che non immaginavo. Sono stati, piangevano insomma tutti con me veramente di questa bellissima novità, bellissima notizia, quindi ma gli algheresi sono così, sono caldi, sono veramente un popolo meraviglioso, quindi sono orgogliosa di farne parte, sono orgogliosa di portare insomma questo marchio. La presidenza dell'Università per la terza età di Alghero comunica che oggi martedì 17 aprile alle 17 presso la sala conferenze dell'ex seminario è in programma una conferenza tenuta dal dottore Emanuele Farris del Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio Università degli Studi di Sassari dal titolo Biodiversità Vegetale della Sardegna, la flora autoctona. Ed ora lo sport, sabato prossimo 21 aprile alle ore 16 il campo di Maria Pia verrà nuovamente solcato dalle vecchie glorie del rugby catolano. La formazione veterans dell'amatore rugby Alghero guidata dal presidente Stefano Trova sfiderà in amichevole francesi di Montpellier del Pixel Loop Rugby. Sabato pomeriggio alle 16 il campo di Maria Pia ospiterà l'incontro amichevole di rugby tra i veterans dell'amatori e il Montpellier del Pixel Loop Rugby. La squadra francese è capitanata da un algherese Adriano Battistoni, figlio di Walter, vecchia Gloria Catalana e la divisione Louisir del Pixel Loop Rugby, club da dove sono usciti grandi giocatori come il mediano d'apertura della nazionale francese Trindac e Oudrego. Raccoglie giocatori che provengono dalla squadra di fisioterapisti di Montpellier, per quello li chiamano anche l'équipe de skin, più vecchi giocatori del peak ed altri come lo stesso Capitano che hanno formazione diversa. I francesi non disputano alcun campionato ma solo test match con regole old, anche se la squadra è relativamente giovane. A parte qualche ragazzino, 26-27 anni, gli altri hanno in prevalenza tra i 30 e i 40 anni. Per questo motivo, visto che i veterans algheresi hanno un'età media notevolmente più alta, il presidente trova e corso ai ripari. Di comune accordo con i transalpini ha chiesto aiuto al tecnico della seconda squadra della Novaco Amatori Alghero, Luca Nurra, il quale fornirà un gruppo di ragazzi che attualmente militano nel campionato di Serie C regionale, in modo da rendere il match più equilibrato. Non mancherà a fine partita un ricco terzo tempo. Ancora una prova di campionato cross country, la quinta della stagione. La gara ha visto partecipare ben sei atleti dell'Alghero Bike. Ottimo terzo posto di Andrea Del Rio nella Master 3. Buona anche la quarta posizione del giovane Daniel Foglianesi. L'Alghero Bike riesce a portare a casa un ottimo terzo posto con Andrea Del Rio nella categoria Master 3. L'atleta più in forma del momento. Dopo le forti piogge del mattino, la giornata di Marrubiu si è ristabilita ed è stato così possibile lo svolgimento della gara. Valevole come quinta prova del campionato. Non è stata una gara molto partecipata. Tutte le categorie si sono contate in totale circa 200 presenze. La prima partenza alle 10 è stata quella che ha visto gareggiare le categorie giovanili. In quella lievi il portacolori dell'Alghero Bike Daniel Foglianesi ha ottenuto un ottimo e meritato quarto posto a ridosso del podio. Alle 11 al via le categorie Master con l'ottimo terzo posto di Andrea Del Rio nella Master 3. La quarta piazza invece per Roberto Del Rio nei Master 5. Mentre Luciano Cattonio nella Master 4 si è piazzato quinto. Giornata da dimenticare per l'altro atleta algherese Claudio Amendola. Giunto ventiquattresimo nella Master 2 a causa di una rovinosa caduta che gli ha fatto perdere diverse posizioni. Il prossimo appuntamento è per domenica 22 aprile. Il Castello di Monreale per la sesta prova di campionato. Per questa edizione è tutto, vi lascio al meteo, grazie come sempre per averci seguito, arrivederci.